2.045 nuovi positivi al Covid-19. Come evidenziato dal bollettino ordinario dell'Unità di Crisi della Regione, il numero dei contagi in Campania continua ad aumentare. Di questi nuovi contagiati, 1.392 sono asintomatici, mentre 653 presentano sintomi, su un totale di 21.120 tamponi analizzati. 2.080 è il numero dei nuovi guariti, mentre 52 quello dei decessi, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri. Al momento i posti letto di terapia intensiva occupati ammontano a 179, mentre quelli di degenza a 1587. A Cava dei Tirreni, invece, il numero dei nuovi positivi è pari a 16.